E' il raiano che su quanto? A C C C A L A F U NO! Ma che beve! Va, e le scoffo? Ma che è che sei morto? Sì Andiamo 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 Ah mi sa che sono tutti italiani allora Oh no dai 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 Cos'è me? E' hot snowy E' caught in cold deck E' un strivede Sì Ma che fumo lo so già non c'è male Casino madonna Bravo 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 M'ho matato due bastardi Ma che amma? Grazie Oh Oh Rop 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 Ah Ah C'è sanno che ho come Bravo Ah bravo? Ce l'ho uno qua vicino a me Ce l'ho uno qua vicino a me Il più serio è questo Vai D'addio Vai vieni qua Qualcosa dell'alto è niente Grazie 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 Era scaricata l'arma Guarda che arriva uno qua Sto fanno su Ma che cazzo sto fanno su Capro Bello bella kill Peccato Ciao Ciao Posso fare nulla io al momento eh Non ho Non ho un cazzo Fucile d'assalto qui Non ho nulla Eh Devo stare qua e provare a uccidere qualcuno da qua Oh Faccio quel bluff E' la Non ho uscito Ne ho uscito No Mi sapevo Un'altra Un'altra Questa Un'altra 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 grande è bravo, fatemi vedere le kill, 4 kill tra 3, no non la vinciamo, non c'è nessuno che si bacca diciamo però se stanno in due ce la possono fare in qualche modo, se stanno comunque in coppia devo scendere lì sotto a prendere le armi qui, in teoria non c'è nessuno non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma che stanno facendo? no dai sti no dai sti no dai sti ma che cazzo vuoi fare? niente da fare ma che poi con chi ce l'hanno? ma dentro da sopra, sopra senza e a tempo da quella piccola casa non sta capendo nulla a me mi piace tanto questo car che mancia il fantasma da te che trocca è complicato questo game no dai sti vai mui un fuga un fuga a i i i i i i i si fai un sniper si fai un magazine vedi ho un blog vedi ho un blog vedi ho un blog vedi non ci si fai un blog non ci si fai una screen non ci si fai un blog bellissima mascherina no scherzo no dai da lì che siamo topo a freezen quei bastardi no dai ma è che perciò perciò non c'è un bel gioco bravo da contro, la riva da contro si si da lì e macchina che macchina che cambiiamo peraltro bravo ci parte la montina davanti scusa dai bravo 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 bravi bravi bravo bravo mamma mia che partita bravo bravo che partita ambigua non stavo capendo nulla bravo 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 vedi che non potevo vincere beh proprio non poteva potevo vincere ho fatto 4000 danni non non lo 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 lo